bentornati in questo terzo episodio in questo episodio andremo a costruire la nuova casa il nuovo campo base ce ne sono le quali porca miseria via via fuggi 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 e segui colmo segui colmo e qua moderiamoci a questo perché abbiamo ucciso tutti è una cosa tipo le le braccia del collo no quella è forte ma quanti ne so le fortuna mi sono scappato ma dove va no da paschi vieni verso di noi ma come ti ha ucciso no andiamo da paschi no dai ma era quello io sono del mare ragazzo nel mare e c'ho tre che mi stanno puntando sulla spiaggia questo è perché ne abbiamo uccisi un sacco non farei paschi resisti più possibile dimmi quando sta per scadere no se ci riesco mai paschi fuggi 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 in casa vieni in casa mi sposto lava lui io sto spacciato qua ma perché sono proprio spacciato porca miseria stai entrando nell'acqua come faccio come stai entrando nell'acqua è finito è paschi è entrato nell'acqua la vivo paschi si l'ho arrestato allora culmo due sono le cose ci sono queste o vieni tu da noi o veniamo noi da te oppure te paschi li ammazziamo tutti dov'è oh guarda io l'ho seminato l'ho seminato non rompe le piante di culmo è morto non mi rompete le piante ma andate ah paschi prenditi quest'arma bastarde no paschi stava bruciando dovevamo prendere le ossa vabbè andiamo da culmo va perché non sta bruciando più eh si ma hai rotto il fuoco va e andiamo allora innanzitutto io direi prima di mettere il progetto di fare una casetta che sarà quella del deposito degli attuizzi se volete io taglio le piante si inizia a tagliare culmo dobbiamo fare l'essiccatoio queste cose così così la carne non si perde così non perdiamo il cibo comunque rametti qua ce ne so proprio vado in cerca di rametti io ragazzi adesso ragazzi dobbiamo fare le fondamenta come vogliamo fare la faccio enorme venite un attimo con me vai culmo costruisci costruisci oh culmo va bene così buongiorno comunque non so se quanto manca buongiorno buongiorno eh manca poco 5 tronchi io non riesco a mettere ma è finita è finita poffete le scale le vogliamo fare per se allora culmo fai le scale guarda vedi la carica pura si fa più danni c'è ragazzi ma non lo so come ce la do buttare addosso ah becca di questo più alla fionna sentito quello allora che scultura le vecchie che? ma che era Thor cosa? 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 ti ho sentito proprio chi ha fatto bla eh sì è vero bellissimo ma che era facciamo le pareti allora lupi sono in caccia sì comunque a parte lupi sono in caccia mi serve un solo tronco per finire la cosa ma stavano 7-8 tronco paschi come finisci di costruire tu allora c'è teleferica senza alberi in pratica tu la puoi piazzare una qui e un'altra la piazzi sopra serve la corda infinita la metto qua poffete che teleferica vuoi fare? costruisci paschi e allora in questo episodio siamo quindi un riepilogo veloce abbiamo cambiato posto stiamo costruendo un nuovo campo base un campo molto più aperto e dove fare un'altra casa e penso che da qui questa sarà penso la definitiva è pronto ecco qua ho intrattenuto abbastanza per far preparare la teleferica vai oh tu le quanto lavora c'è per me qua tronfi freschi mio signore eh vi è piaciuto raga bellissimo se voglio colmo sul carrello lanciato in mezzo a selvagge purtroppo non lo fa vuoi il tetto è muo allora adesso ragazzi venite dentro casa qui facciamo il salutone anzi vogliamo andare nella casetta piccola stiamo nella casetta grande nella casona grande ho esagerato con le finestre è la luce open space open space gulmo le case moderni tutti open space comunque vabbè se no ti devi mettere a fare le lampadine le luci capito poi deve diventare mo possiamo pensare pure di fare un secondo piano quindi fare di nuovo un pavimento capito fare tipo pavimento come viene a fare prima la scala e poi il secondo piano no no si può fare anche dopo comunque niente ma che era ho chiuso io fammi andare a salvare mi fate passare per cortesemente fate passare ti scassate la porta ti scassate ya ti scassate la porta ya ah ok a posto a posto ah era fuffato comunque fatemi andare a salvare allora salviamo allora mettiamoci qui insieme a Paschi ragazzi c'è chi Paschi no dai ciao ugo il pollo benvenuto in live oh sempre ragazzi quando chiudiamo la live arriva un po' è scassata la casa gulmo madonna mia gulmo madò non so io come si aggiusta dobbiamo fare l'attrezzo per aggiustare ma non mi ricordo come si fa aspetta allora lancia debole per chasper frecce strumenti di riparazione pop due stoffe due bastoni pop 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 sei ecco qua vabbè abbiamo provato un'altra cosa abbiamo provato ecco qua allora andiamo Paschi puoi aprire cortesemente sto bussando ah salve allora gulmo mi sono caduto sono caduto l'ho fatto a tempo comunque con gulmo e il suo tronco ciao a tutti ragazzi all'anno metti